Sì, è chiaro che è una partita quasi decisiva, dico quasi perché mancano pochissime gare al termine, mancano solamente quattro partite e quindi ormai ogni partita può essere quella decisiva. Sappiamo di dover affrontare un avversario che all'andata ci ha messo in palese difficoltà dove noi non l'affrontammo con la giusta concentrazione per mille motivi, però è chiaro che quella partita lì ci deve insegnare che se la Cararese non è presa con la giusta concentrazione, con la giusta cattiveria agonistica, con la giusta determinazione è una squadra che riesce a farti male in qualsiasi momento, specialmente nel reparto avanzato e con i due interni di centro campo hanno capacità tecniche, sanno attaccare la porta, hanno alternative, quindi specialmente nel reparto quando ti attaccano sono estremamente pericolosi. Dobbiamo valutare fino a domani chi sarà della partita perché abbiamo avuto delle problematiche, qualche malanno di stagione che chiaramente non sappiamo se riusciremo a recuperarli, e quanti riusciremo a recuperarli domani, quindi la conta praticamente la dobbiamo fare domani mattina. Mi aspetto qualcosa in più, ma non tanto perché abbiamo sbagliato qualcosa, è perché dobbiamo essere bravi ad avere equilibrio in entrambe le fasi di gioco, perché ora stiamo difendendo con grande applicazione, stiamo mancando un po' nelle scelte, un po' nella fase di possesso. È chiaro che dobbiamo essere bravi a fare entrambe le cose, quando abbiamo la palla dobbiamo attaccare con grande efficacia e quando la palla ce n'hanno gli altri dobbiamo difendere come stiamo difendendo nell'ultimo periodo, però dobbiamo insistere e cercare di unire queste due cose, che la fase difensiva la stiamo facendo molto bene nell'ultimo periodo, e la fase offensiva che è dall'inizio della stagione, dove anche quando non abbiamo fatto gol, ma abbiamo creato sempre tantissimo, nelle ultime partite siamo stati più sterili, quindi dobbiamo essere bravi sicuramente a miscelare entrambe le cose. È una squadra che si è migliorata nell'arco della stagione, perché all'inizio della stagione aveva delle problematiche che si sono state corrette e quindi per forza di cose lo staff ha lavorato bene. È una squadra che secondo me ha inciso tanto anche nel reparto avanzato, forse anche il suo essere stato grande calciatore secondo me ha migliorato anche il reparto avanzato, quindi io ne posso parlare solamente che bene, perché per come ho visto il percorso della Cararese nutro grande stima in questo staff tecnico, in questo allenatore, perché ho visto una squadra che è migliorata e non magari ci sono altre squadre che partano sempre benissimo e poi arrivano male e quella è un'involuzione della squadra, quindi la Cararese non è così, la Cararese è migliorata nell'arco della stagione.